Vi auguro la buonanotte con questo messaggio. Pace. Hai bisogno di serenità e di tranquillità. Questa carta ti segnala che dipende solo da te saper ritrovare la pace come condizione interiore, indipendentemente dalle circostanze esterne. In questo momento non riesci a liberare la tua creatività e hai difficoltà a esprimere ciò che senti. Questa condizione ti crea uno stato d'ansia e ti sembra di non poter avere un attimo di serenità. Cerca di vedere le cose che ti riguardano con maggior tranquillità. Verifica la relazione tra eventuali disagi e le parti fisiche legate al quarto e al quinto chakra. Il consiglio di questa carta è scegli una musica dolce e rilassante e durante l'ascolto lascia spaziare la mente. Se sei in collera con qualcuno o non ti senti abbastanza compreso cerca di superare i risentimenti per trovare un po' di armonia. Questo è il messaggio per augurarvi la buonanotte. Grazie. Grazie.